E' passato un anno dal ritrovamento di un neonato lasciato nello sportello della Culla per la Vita nei pressi della chiesa Gesù Lavoratore di Giarre. Era la notte tra il 3 e il 4 aprile 2015, quando grazie alle telecamere presenti all'interno dello sportello, venne dato l'allarma ai sanitari del 118, che subito andarono in soccorso del piccolo. Era la vigilia di Pasqua del 2015 e il piccolo venne chiamato appunto Pasqualino. Nonostante gli appelli dei volontari, Pasqualino non è mai stato cercato dalla madre naturale, che però, grazie a questo gesto di grande civiltà, non ha negato al piccolo la possibilità di avere un futuro e una famiglia che lo potesse accogliere con amore. Il bambino che fu chiamato così appunto dal personale dell'ospedale dove fu subito trasferito, sicuramente è stato dato in adozione perché i bambini neonati, se non hanno nessuno di cui si occupa, quindi se la mamma o qualcuno non interviene entro 10-15 giorni, vengono automaticamente messi in adozione. Quindi siamo sicuri che in questo momento il bambino trova quell'affetto che la mamma pensava di non potergli dare. E a proposito della madre, voi avevate lanciato un appello, ecco, avete ricevuto notizie oppure no? Sì, il nostro compito di associativa è proprio quello di aiutare le mamme in difficoltà, quindi anche a questa mamma abbiamo lanciato un messaggio dicendo che eravamo a sua disposizione per poterla aiutare in qualsiasi modo, ma non ne abbiamo avuto più notizie, nessuno ci ha contattati. La Culla per la Vita è una delle tante iniziative dei volontari dell'Associazione Centro di Aiuto alla Vita di Giarre. Il Centro di Aiuto alla Vita, che si occupa anche della Culla per la Vita, principalmente è un sostegno per le mamme che in seguito a una gravidanza inattesa e indesiderata, sono tentate di abortire, quindi noi le facciamo prendere consapevolezza del loro diritto di essere madri e le aiutiamo durante la gestazione e anche dopo.